Sarà una Pasqua all'insegna del tutto esaurito, Riviera complice anche i ponti del 25 aprile del primo maggio e il boom di richieste deve rassicurarsi una vacanza a Rimini, almeno tre o quattro notti, la permanenza media secondo gli operatori più lunga rispetto alle due o tre abituali. Prevediamo un aumento di presenze di turisti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dice Antonio Carasso, presidente di promozione alberghiera. Del resto, quattro ponti così ravvicinati, considerando anche il weekend del 4-5 maggio, non capitano certo di frequente, così negli ultimi giorni con le previsioni meteo favorevoli si moltiplicano le prenotazioni. Qualche dato allora, per la sola Pasqua la percentuale di riempimento degli alberghi si attesta intorno all'80%, dai 50 e 60 euro la pensione completa in un 3 stelle, la tipologia alberghiera più gettonata a cui si aggiunge anche l'ingresso ai scelti in uno dei parchi tematici. Davvero un bel pacchetto e a prezzi sicuramente concorrenziali. Sarà un turismo composto prevalentemente da famiglie alla ricerca di un'offerta che spazia tra parchi tematici, no gastronomia e cultura sotto l'inaccarasso e a far da traino saranno ancora una volta le numerose iniziative di carattere sportivo, il paganello su tutti, ma anche tornei di calcio e di basket. Due settimane di ponti con la filiera dell'accoglienza già a pieno regime e con un'offerta di eventi di proposte uniche in Italia, dice il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, che testimonia il percorso della città verso la valorizzazione della sua identità, della storia e della cultura. Il centro storico di Rimini si sta sempre più affermando come prodotto turistico di appeal per chi ama le città d'arte.